Siamo giunti all'ultimo giorno ai 7 colli con un risultato più che soddisfacente. Ieri ho vinto il 400 con un tempo che mi soddisfa, aggiudicandomi, confermandomi migliore degli italiani. Poi vabbè, nei 200 mi aspettavo un po' meglio, però avendo appena iniziato a gareggiare sui 200 stile libero, un po' più sulla velocità, ci sta alla grande. Oggi tornerò a casa per poi ripartire mercoledì per giocare mediterraneo. Qui a Roma mi lascerà un bellissimo ricordo perché il tifo è sempre calorosissimo e poi fuori italico ha qualcosa di magico. Poi mettersi in fila, avere una fila enorme di ragazzini che chiedono autografi è sempre emozionante e ti dare una forza maggiore per andare avanti e migliorare.